Avvocato carissimo, buongiorno. Sono ancora qui al bar ad aspettare il cliente. Come devo rientrare praticamente? No, è che se poi arriva ho tutti i documenti pronti. Ok, va bene. Che fai? Te ne vai? Non mangi qui? L'ora porta con te la smart card. Dai dai, ti servirà. Avvocato carissimo, buongiorno. Come va? Tutto bene? Io non capisco che cosa ti sia passato per la testa, a causa della tua assenza. Siamo in ritardo di una settimana e mi dovrò accontentare di un tramezzino che mi ha preso la segretaria al chiosco qui all'angolo. Guardi, Avvocato, a tal proposito io le propongo una soluzione. Grazie a questa smart card noi possiamo ordinare il pranzo direttamente da qui, dall'ufficio. Le faccio vedere. È semplicissimo, basta scaricare l'applicazione, smart touch, accedere al menu, registrarsi e attraverso il menu noi possiamo ordinare il pranzo direttamente da qui. Guardi, caffetteria, aperitivi, bibidi, quello che vuole. E verrà consegnato direttamente qui dai ragazzi dell'Ambarabà Smart Caffè. Tra l'altro, ha visto? Attraverso l'applicazione noi abbiamo anche il 10% di sconto. Buongiorno. 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 Ah, ottima scelta. Prego. Arrivederci. 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 Ambarabà, lo smart caffè che si connette con te. Avvocato, mi scusi, ma è una lettera di licenziamento? Ma lascia stare, dai, ci vediamo domani. Posso stare tranquillo, ma c'è scritto il mio nome. Non ti preoccupare, vai e tagliati questa barba che mi sei riuscito fuori dall'isola dei famosi. Eh, buon prezzo. Buon prezzo.